Welcome to my world spirito sono più brava io aspetta a me quella parte le parti sono entrambe belle sempre meglio è la storia di un contadino hubert e della sua umile amorevole moglie grisel e della fata che rovinerà la loro vita perché la fata e hubert si innamorano alla follia e fuggono nell'unico posto in cui potranno vivere insieme il regno delle lena vediamo il tuo spiritello che ruba il contadino max alla moglie te e alla megera ero così distratta da te a stamane che non avevo realizzato che max il contadino e allora esiste una leggenda sulla fe i ballerini che faranno queste parti si innamoreranno perdutamente vedremo se è così no 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 te l'ho già detto non ti voglio qui dentro tu crei troppi problemi ma siamo amici e un amico non ti caccia se non sai dove andare sei finito in un bel pasticcio vero un po mio padre vuole mandarmi alla fattoria di mio zio in mezzo al nulla ma così non potrei più raggiungere lena è in una bolla temporale deve aiutarmi io la amo tutto bene? sì grazie riprendiamo dall'inizio? sì lena ma che sta facendo? bisogna avere rispetto per la fe mi scusi certo niente scuse facciamo pausa a cinque minuti per chiarirsi le idee che succede? tutto ok? ehm cinque minuti di pausa non capisco volevo sgridarlo quando mi ha preso la mano ma mi sono sentita capisci i suoi occhi sono davvero quindi il problema sono i suoi occhi ora? è così diretto ti fissa con quello sguardo oh no è una leggenda l'incantesimo ci ha stregati entrambi hai considerato la possibilità che semplicemente voi due vi piacciate? no questo proprio non è possibile io ho un fidanzato mi dispiace tanto ripartiamo forza perfetta brava è davvero stupefacente beh è un portale che ti permette di viaggiare quando i portali non sono aperti ecco se funziona come credo io può penetrare la bolla di Lena sul serio? e dove lo posso trovare? non puoi Oscar se può aiutarmi a salvare Lena me ne serve uno dovremmo costruirlo ma non credo che... andiamo abbiamo fatto un prototipo possiamo realizzarne uno vero ma potresti danneggiare il tempo per sempre sì riesco a vedere i progetti che cosa farai? non mi lascerò sfuggire la fe è un miracolo materiali portateli qui e subito ci siamo abbiamo il nostro trasportatore nel tempo di solito mi aiutava Harry c'era sempre quando avevo bisogno di lui ehi ma non ti sei mai fermata? ci devo riuscire sì ti reggo io sì no senti qui ho capito dai dai rilassati Chica bravo è solo una leggenda è stato stupendo mi sento strano qualcosa non va penso che si tratti di Lena osa ancora rubarmi la parte e te ne pentirai perché mia cara Lena chiunque tu sia la pagherai caro videodiario sai ce l'ho fatta è stato fantastico Harry vorrei che fossi qui mi manchi buonanotte Harry qui è tutto molto faticoso però ho fatto dei progressi e forse so come trovarti non ne sono certo ma vale la pena tentare mi manchi tanto non ne sono non ne sono certo non ne sono poi qui sta la ora parla Grazie a tutti.